Le prime notizie di martedì 9 aprile. Una podista di 47 anni, Marilena Brudaglio, ieri mattina è stata investita e uccisa da un SUV BMW X3 condotto da un 76enne di Andria. Mentre si allenava sulla statale 170 per Castel del Monte, la podista era tesserata con la società Pedone Riccardi di Biceglie, il conducente e indagato per omicidio stradale. E ieri pomeriggio un'altra tragedia. Un ragazzo di 22 anni, anche egli di Andria, ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro un albero sulla provinciale 231 che da Canosa di Puglia porta Minervino Murge a dare l'allarme l'amico che lo seguiva su un'altra moto. Aveva assunto cocaina e alcol Nancy Liliano, la 31enne, alla guida del SUV che ha travolto e ucciso i due carabinieri pugliesi, ferendone gravemente un terzo. La giovane in passato era stata arrestata per droga, intanto questa mattina a Manfredonia e Montesano Salentino si svolgeranno i funerali di Francesco Pastore e Francesco Ferraro in entrambi i comuni. È stato proclamato il lutto cittadino. Ora è certo, le ossa ritrovate a dicembre in un pozzo nelle campagne della zona industriale di Brindisi appartengono all'imprenditore di Casalinghi, Salvatore Cairo, scomparso nel nulla nel 2000. Il DNA dei resti è stato comparato con quello prelevato dai fratelli di Cairo. Per l'omicidio sono imputati i fratelli Cosimo ed Enrico Morleo. Avrebbe più volte molestato sessualmente una bambina di otto anni della quale era nonno acquisito. Un pensionato di 72 anni di Otranto è stato condannato a nove anni di reclusione e a un cospicuo risarcimento. Negano la compravendita di voti sia l'ormai ex sindaco di Trigiano Antonio Donatelli che Sandro Cataldo, leader del Movimento Sud al Centro e marito dell'ex assessore regionale Anita Mauro di Noia. Entrambi agli arresti domiciliari hanno affrontato l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP. E intanto il Viminale informa che non ci sarà nessun rinvio le elezioni per scegliere il nuovo sindaco di Bari si svolgeranno regolarmente l'8 e il 9 giugno prossimi. Ha sorpreso tre ladri in azione nel centro solino di Squinsano che assiste ragazzi con disabilità. Un operatore è stato preso a calci e pugni dai malviventi ed è finito al pronto soccorso. I banditi sono fuggiti con 1000 euro. Una bomba è stata fatta esplodere ieri sera davanti alla gioielleria Marino in pieno centro a San Giovanni Rotondo. Quando ancora il proprietario era all'interno e in giro c'erano numerosi passanti, per fortuna nessuno è rimasto ferito in frantumi l'ingresso del negozio. Si è insediato ieri a Brindisi il nuovo prefetto Luigi Carnevale, 63 anni già responsabile della sicurezza del Papa, oltre che capo della polizia scientifica italiana, torna a Brindisi 25 anni dopo esservistato come dirigente della squadra mobile. Un lunedì in nero ieri per i trasporti in Puglia, come previsto la linea ferroviaria adriatica è stata bloccata tra Lanciano e San Severo per lavori di potenziamento e disagi anche negli aeroporti per uno sciopero del personale di terra a Bari e Brindisi, cancellati i numerosi voli di Ita Airways. Meteo, ancora un clima mite oggi con temperature che raggiungeranno i 28 gradi sul tavoliere e nell'entroterra barese, una giornata di sole con passaggio di nuvole innocue, vento moderato da sud-sud-est con mari poco mossi. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.